Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È possibile fare l'allevatore come professione? E quindi in questo video voglio parlare di, diciamo, di allevatore come professione. Quindi soprattutto se si può fare, come lo si deve fare e se veramente è fattibile come business primario per una persona. Allora, prima di tutto, come già detto in un video, bisogna distinguere i vari tipi di allevamenti. Ci sono allevamenti in cui vengono fatte poche cucciolate, in cui magari c'è un solo allevatore, in cui magari ci sono poche fattrici e magari c'è una selezione, però c'è una selezione un po' più accurata. Quindi magari quella cucciolata lì è una cucciolata molto più importante perché si va a ricercare bene, a studiare bene il pedigree della propria fattrice e quindi si va a ricercare anche un pedigree in mente dello stallone molto più importante. Mentre poi ci sono allevamenti che magari fanno lo stesso discorso, quindi dell'importanza della selezione dei pedigree, ma lo fanno con molte più fattrici. Oppure poi ci sono allevamenti che, diciamo, fanno cucciolate in generale, appunto, come se, diciamo, come business, ok? Com'è lavoro, semplice lavoro, in cui magari c'è un team, ci sono delle persone, a volte è a conduzione familiare, quindi a maggior parte degli allevamenti sono per lo più famiglie a cui tutti i membri della famiglia magari piace stare a contatto con gli animali, stare a contatto con i propri labrador, i propri cani in generale, qualsiasi razza sia, e fanno questo allevamento a conduzione familiare, quindi tutti si occupano di una determinata, hanno un determinato compito. Ci sono questi tre, diciamo, tre tipi diversi di allevamento, quello un po' più fatto per passione, pura passione, in cui magari c'è una sola persona che gestisce un po' tutto, quando magari finisce di fare il primo lavoro, ecco, e quindi si dedica un po' all'allevamento, poi c'è un altro tipo di allevamento in cui magari c'è una persona che magari ha un collaboratore, un amico magari, con cui fare un allevamento, magari gestiscono una proprietà insieme e fanno un po' più cucciolate, insomma, due o tre cucciolate, non di più, e poi c'è proprio l'allevamento fatto come un'azienda, ok, in cui c'è tutta una famiglia dietro che ci lavora, che si dedica al 100% a delle cucciolate. Cos'è che spinge una persona a dire voglio fare l'allevatore? Devo dire che io sono un caso particolare, in che senso? Nel senso che io sono giovane e quindi sin da piccolo ho avuto questa passione per fare, per entrare in questo mondo, e quindi non ho avuto l'esigenza di dire cambio vita, sono giovane e quindi non avevo un'altra vita precedente, cioè il mio lavoro poi mi permette di lavorare da casa, eccetera. Però devo dire, la maggior parte delle persone che decide di essere allevatore, diventare allevatore, fare qualche cucciolata, sono persone che hanno già sulla 30-40 anni e che magari sono stanchi del lavoro che fanno e vogliono diventare allevatore. Quindi vogliono proprio cambiare, stravolgere la loro vita e decidere di mettersi, entrare in contatto con la natura, entrare in contatto con gli animali, diventare veramente un tutt'uno con i propri cani. e devo dire che è molto comune infatti, come dicevo, vedere persone sulla trentina, quarantina, cinquantina d'anni che si dedicano poi ad allevare e trasformano piano piano l'allevamento in un business, quindi abbandonano oppure delegano il primo lavoro a qualcun altro, lo fanno gestire a qualcun altro e hanno più tempo poi per gestire l'allevamento. e diciamo che in questo modo, piano piano, la persona sposta il suo focus, il suo modo di lavorare dal primo lavoro al nuovo lavoro che dovrebbe essere l'allevamento. Ora, si può pensare all'allevamento come un lavoro? Sicuramente, come ho detto già in un altro video, su come aprire l'allevamento, nel breve termine l'allevamento è praticamente una spesa continua, cioè non hai un ritorno di investimento nel breve termine. Tu spendi, spendi, ci vuole tempo, tanto tempo, e per aspettare di fare la prima cucciolata, per creare una struttura, per fare in modo che almeno il primo tipo di allevamento, quello più semplice, tu possai realizzarlo. Ma ci vuole veramente tempo, perché la fattice deve crescere, acquisti la cucciola, cioè a tre mesi, due mesi, devi crescere, devi arrivare a due anni, devi fare almeno tre calori, devi vedere bene il pedicchio del maschio, devi studiare bene qual è la tua linea di sangue, capire bene quali sono i controlli che ci sono dietro la tua cucciola, insomma devi fare dei controlli più accurati, degli studi continui, e creare poi la struttura e tutto, quindi ci vogliono degli anni in cui tu in questi anni spendi e basta. Quindi potrai ottenere i primi ritorni di investimento dalle prime cucciolate, ma da qua, dall'inizio, dal giorno zero, alla prima cucciolata passeranno tanti anni. Quindi quello che dico io puoi farlo, però devi mettere in conto che è un investimento, un grande investimento, che ti leverà sia energie costantemente, per quanto riguarda in generale, non puoi avere il 100% del tuo focus sul tuo primo lavoro, ma dovrai spostare un po' di focus sull'allevamento, e ogni giorno ti leverà sempre più di questo focus. Dopodiché potrai passare piano piano a fare la prima cucciolata, potrai, ecco, poi è difficile anche entrare in questo mondo come allevatore, quindi all'inizio sarai praticamente come se fossi un, alla fine sei un privato, che vende magari dei cuccioli con un pedigree, questo è importante, vende dei cuccioli con i pedigree, fai i controlli accurati, per la genetica, per le malattie della razza, e poi magari puoi anche affidarti ad un veterinario, ad una serie di veterinari, per vedere appunto di trovare delle famiglie, di solito molte famiglie si affidano anche ai veterinari, per capire, conoscete un allevamento, conoscete qualcuno che vende, eccetera, molto spesso capita. Quello che vi voglio dire, è che appunto si può trasformare anche questo in un business, business non è una parola negativa, cioè non è una parola venenosa, business significa costruire un qualcosa che possa portarci un guadagno, ok? Ovviamente, fare business, ma fatto bene, in cui tu, fare business nell'allevamento intendo, in cui tu fai qualcosa, costruisci qualcosa che ti porta guadagno, ma che comunque è di qualità, fatto bene, in cui i cuccioli sono curati, i maschi, le femmine, i tuoi cani, in generale sono curati, c'è amore dietro, è un business che si può accettare, no? Quindi è un business che si è fatto bene, si è portato avanti, con le giuste regole etiche, da allevatore, allora puoi farlo. Non fare le cose in maniera arronzata, falle bene, studia prima bene, tutto ciò che devi sapere riguardo alla tua razza, riguardo all'allevamento, riguardo alla gestione, riguardo alla cucciolata, tutto, e poi parti, quindi prima studi, prima ti formi, come tutte le cose, prima ti formi, e poi parti, non puoi pensare di partire, e di imparare semplicemente delle esperienze, perché ti porterà solamente a frustrazioni, a insoddisfazioni, a dolore, eccetera, quindi sono cose che ho vissuto, esperienze che ho fatto, e ti consiglio di studiare prima bene, come diventare allevatore, fatto per bene, e poi di partire, detto questo, spero di averti dato, tutti dei consigli molto pratici, molto utili, che ti aiuteranno a fare la scelta giusta, e che ti faranno capire, se a una certa età, in un certo periodo, in cui siamo adesso, nel 2021, nel 2020, con questo periodaccio, che sta, ci sta attraversando, pensaci bene, se la scelta giusta, si inizia o non all'allevamento, in questo periodo, io se fossi, se fossi una persona, che dovesse scegliere adesso, voglio fare un allevatore, lo faccio adesso, io sinceramente, passare questo periodo a studiare, questo è il periodo giusto per studiare, capire come essere allevatore, poi, appena ho finito di studiare, appena il periodo poi, è anche più, più, più felice, allora, iniziamo a mettere le basi, per l'allevamento, questo è il mio consiglio, allora, ci sentiamo presto, e, se vi va, potete iscrivervi al canale, sicuramente, fatemi qualche domanda, nei commenti, su quale video vorreste, su quale argomento vorreste, che io parlasse, diciamo, che io trattassi, ecco, quindi, mi farebbe molto piacere, avere il vostro aiuto, me lo state dando, quindi vi ringrazio tanto, per le persone che, mettono mi piace, commentano, eccetera, grazie, 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 ciao, a presto,